ciao amici bentornati sul mio canale proseguiamo con i nostri decori autunnali e chi non poteva mancare la nostra castagna che insieme alla zucca che trovate già sul mio canale abbellirà le nostre tavole i nostri giardini e ci ricorda questa stupenda stagione con i suoi colori e profumi allora nel video tutorial io il pezzo iniziale della castagna che voi vedete lavorato con un marron scuro lo lavorerò con un colore azzurro perché sennò nel tutorial questo colore non si riesce a vedere bene i punti poi nella seconda volta parte prenderò in mano il mio pezzo originale col colore originale e proseguiremo insieme allora intanto andiamo a vedere lo corrente un colore io uso un acrilico appunto marone un colore beige che vado a lavorare con un uncinetto due e mezzo abbiamo bisogno di una forbice di un ago da lana un po di imbottitura acrilico e poi procuratevi un filato di contrasto un pezzo di filo a contrasto che ci farà da segna punti allora vado a prendere il mio filo il mio uncinetto e faccio un anello magico giro il filo intorno all'indice al medio poi faccio un secondo giro ma il filo questa volta lo faccio andare sopra l'altro filo in modo di fare una specie di croce prendo il filo sotto pesco quello che c'è davanti e strago le dita e abbiamo così il nostro anello che come prima cosa andiamo a fissare con un punto basso adesso come prima cosa in questo anello andiamo a fare quattro punti bassi 1 2 3 e 4 tiriamo sul nostro filo iniziale così il nostro anello magico si chiude adesso nel primo giro andiamo a fare un aumento in ogni maglia di base aumento vuol dire fare due maglie nella stessa maglia per cui andiamo nella nostra prima maglia del giro sottostante e facciamo una maglia bassa e nello stesso punto una seconda maglia bassa nella prossima maglia faremo anche qua due maglie basse nella terza maglia sempre due maglie basse e nell'ultima e quarta maglia anche qua due maglie basse così ci troviamo adesso con otto maglie basse adesso andiamo a proprio prenderci il nostro filo di contrasto che ci farà da segna punti così noi sappiamo sempre quando inizierà il nuovo giro lo appoggiamo e adesso nel secondo giro andiamo a fare un punto basso normale e un aumento un punto basso normale e un aumento allora entriamo nel primo punto facciamo un punto basso normale nel secondo secondo facciamo il nostro aumento bensì due maglie basse nella stessa maglia di base poi un aumento un punto basso normale scusate nella prossima il nostro aumento facciamo un punto basso normale un aumento un punto basso normale un aumento per tutto il giro alla fine ci troviamo con 12 maglie basse terminato il nostro giro prendiamo il nostro filo che ci fa da marca punti lo togliamo lo riposizioniamo adesso nel terzo giro faremo due punti bassi normali e nel terzo faremo l'aumento allora un punto basso normale nella maglia successiva il secondo punto basso normale e nella terza faremo il nostro aumento bensì due maglie basse nello stesso punto di base 1 1 e nel terzo un aumento un punto basso un punto basso nel terzo l'aumento e ci vediamo alla fine del giro alla fine del giro ci troviamo con 16 punti bassi adesso andiamo a fare il nostro quarto giro dove faremo tre punti bassi normali e nella quarta l'aumento tre punti bassi normali 1 2 3 punti bassi e nella quarta andiamo a fare il nostro aumento 3 punti bassi e un aumento che ripeteremo per tutto il giro alla fine ci troviamo con 20 maglie basse terminato il nostro giro andiamo a spostare il marca punti facciamo il nostro quinto giro dove andiamo a fare 4 punti bassi più un aumento allora facciamo 4 punti bassi normali 1 2 3 4 e nella quinta andiamo a fare il nostro aumento 4 maglie basse e un aumento per tutto il giro alla fine ci troviamo con 24 maglie basse arrivati alla fine del nostro giro adesso andiamo a fare due giri di 24 maglie basse praticamente lavoriamo i punti come si presentano senza nessun aumento faremo due giri e poi ci rivediamo lavorati i nostri due giri di punti bassi come potete vedere sono tornati tornata sul mio colore originale perché adesso andiamo a prendere il colore più chiaro andiamo nel prossimo punto e facciamo un punto bassissimo una catenella allunghiamo l'asola tagliamo il filo perché andiamo a cambiare il colore andiamo a prenderci il nostro beige nel mio caso adesso con l'uncinetto andiamo in un qualsiasi punto sottostante nelle due asoline del punto spero che potete vedere prendiamo il nostro filo facciamo una catenella entriamo nello stesso punto e facciamo un punto basso intanto per fissare il nostro filo adesso in questo giro andiamo a fare una serie di diminuzioni facciamo quattro punti bassi e una diminuzione allora il primo punto basso l'abbiamo già realizzato nel prossimo punto un secondo punto basso nel terzo punto il terzo punto basso nel quarto punto il quarto punto basso e adesso andiamo a fare le nostre diminuzioni allora le diminuzioni negli amigurumi si prendono sempre solo le costine davanti del punto per cui entriamo nella costina davanti del prossimo punto un po' un problema con questo scuro spero che poi possiate vedere nella costina davanti nella costina davanti del punto successivo prendiamo il filo facciamo passare attraverso tutte e due le asole e poi facciamo un punto basso questa è stata la diminuzione adesso ripetiamo quattro maglie basse una due tre e quattro e la prossima diminuzione costina davanti del punto successivo costina davanti del punto dopo prendiamo il filo passiamo attraverso tutte e due le costine e facciamo il punto basso in questo giro farete quattro punti bassi e una diminuzione e poi ci rivediamo allora terminato il nostro giro che dobbiamo aver terminato con una diminuzione andiamo a riprenderci il nostro filo a contrasto lo andiamo a posizionare adesso nel prossimo giro noi adesso senza far nessuna chiusura andiamo avanti a lavorare facciamo tre punti bassi e una diminuzione per cui andiamo nel primo punto basso del giro sottostante un punto basso secondo punto basso terzo punto basso e la diminuzione costina davanti del punto costina davanti del punto successivo faccio passare il filo attraverso queste due asole punto basso un punto basso il secondo punto basso il terzo punto basso e la diminuzione costina davanti di un punto costina davanti del prossimo punto e punto basso andiamo a fare questo per tutto il giro tre punti bassi più una diminuzione e poi ci vediamo terminato il nostro giro andiamo a fare il prossimo giro che saranno due punti bassi e una diminuzione un punto basso secondo punto basso e la diminuzione un punto basso secondo punto basso e la diminuzione faremo questo per tutto il giro e poi ci rivediamo arrivati alla fine della nostra riga andiamo allungare l'asola prendiamo fuori per un attimo il nostro marca punti e adesso dobbiamo andare a riempire la nostra castagna con un po della nostra imbottitura acrilica potete farvi aiutare dall'uncinetto imbottito la vostra castagna andiamo a fare l'ultimo giro dove andremo a fare un punto basso e una diminuzione un punto basso e una diminuzione per tutto il giro terminato il nostro giro andiamo a togliere il nostro marca punti allungare l'asola tagliamo il filo un pochettino lunghetto ci prendiamo il nostro ago da lana e andiamo a cucire l'ultimo pezzo della nostra castagna come vedete qua sopra è rimasto un piccolo buchetto andiamo a cucirlo con l'ago entrando nelle maglie dall'interno verso l'esterno entriamo in ogni maglia che è rimasta sempre dall'interno all'esterno arrivati alla fine andiamo a tirare il nostro filo per bene così la nostra castagna si chiude adesso andiamo a nascondere questo filo all'interno del nostro lavoro scusate andiamo a tagliare questo filo adesso vi procurate un pezzetto di filo scuro col quale abbiamo lavorato la nostra castagna infilate nel vostro ago entrate all'interno della castagna una volta fate passare il filo fino alla fine poi rientrate nello stesso spazio dove siete usciti e ripassate una seconda volta nella castagna in modo che questo filo sia ben fisso poi rientriamo nello stesso punto e sbucchiamo su proprio in cima dove c'è diciamo l'inizio del nostro anello magico sbucchiamo su in cima con l'ago facciamo passare il filo poi andiamo a tagliare questo filo un pezzetto poco poco e poi o con le mani vi aprite il filo o vi aiutate anche con l'ago in modo che facciamo un lavoro di questo genere e dopo aver sistemato il cappello chiamiamoli i capelli della nostra castagna ecco qua la nostra castagna io spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciatemi un like abbonatevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial